ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri orologioni eccoci qua oggi vuole essere una puntata una prova voglio fare una prova voglio fare la puntata cortissima cioè solamente con un vostro video per vedere se vi piace o se non vi piace lasciate nei commenti sotto il vostro parere se preferite un video così una pillola più spesso magari quasi ogni giorno oppure un episodio più lungo composto da 3 4 5 video poi una prova facciamo questa prova qua un video veloce anzi non vi dico nemmeno l'orologio del giorno ve lo dovete indovinare da voi chi non dovina vince la ciofecca d'argento la ciofecca d'oro la diamo a chi commenta per primo la ciofecca d'argento la diamo a chi azzecca l'orologio del giorno vai partiamo con questo episodio prova speed veloce vai ciao caro davide sono riccardo da roma riccardo ti mando un aggiornamento della mia collezione vado subito al dunque perché mi hai perculato che sono troppo prolisso ti voglio bene comunque vado subito a iorologio il primo e l'ultimo arrivato che è questo saico 5 gmt militari beh mi piace molto davvero molto carino gradevole e simpatico fatto anche bene bel bracciale peccato la clasp però per il resto niente da dire bello orologio poi sports classicone emilton khaki field titanio e questo l'ho preso di secondo polso in condizioni direi molto buone e come sempre precisissimo perché scarta di un secondo al giorno in negativo ecco devo fare questa premessa più che premessa precisazione sono fissato con gli scarti quindi se un orologio anche nuovo che compro scarta più di 6 6 7 secondi al giorno qualsiasi calibro monti io lo apro e lo regolo gran ci vuole un po di tolleranza ragazzi 5 6 secondi cioè la certificazione cost che prevede meno 4 più 6 e te a 5 6 vai già in paranoia e lo devi aprire cioè è più controproducente aprire un orologio per regolarlo che tenerlo così com'è ricordiamoci che ogni operazione che si fa su un orologio apertura chiusura è un'operazione inutile che aumenta il rischio di qualcosa che vada storto cioè ma questo in qualsiasi in qualsiasi ambito tecnologico della vita se un un sistema è nella sua quiete se tu intervieni per modificare quella quiete rischi di alterare il sistema stesso ok sempre fonte di un possibile errore poi 5 6 secondi dai orologio veramente un po sporchino però bello 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 ci piace poi questo questo qua che tu definisci una pseudo ciofeca secondo me secondo me questo esiste in talmente tante versioni lo producono tante case diverse io questo l'ho preso da noto sì noto un sito mi pare belga olandese comunque che distribuisce sigal 1963 in diverse declinazioni questa in particolare ha il movimento movimento tra l'altro per quello che costa davvero è questo non metta a fuoco pazienza davvero molto carino se con la regolazione col collo di cigno che tra l'altro è finta perché se tu vedi se vedi questa qui non so un grande videomaker però se vedi la vite è a fine corsa quindi non si può regolare in realtà però come si può regolare cioè si può regolare ma senza la micro regolazione a collo di cigno però questo intanto ce l'ho da circa un anno diciamo e mi scarta di più 3 più 4 secondi al giorno va bene quello un'ottima prestazione non mi ha mai dato problemi magari non lo dico troppo forte ma non mi ha mai dato problemi non si è mai fermato è un orologio che per quello che l'ho pagato circa 200 euro lo reputo lo reputo comunque un orologio storico e poi piace a me quindi va bene così poi questo colpa tua citizen pro master full loom sì anche a me ha un po stancato il full loom che tra l'altro non si vede benissimo di notte perché anche se si illumina e anche in maniera importante le sfere non sono a contrasto col quadrante quindi la leggibilità non è ottima di notte comunque gran bell'orologio qualità costruttiva ottima ci sono stato al mare senza nessun problema vuole vedere come nuova anche perché io poi gli orologi insomma li tratto bene quindi faccio come ci hai suggerito tu che lo lavo sotto la doccia dopo aver fatto il bagno e questo effettivamente aiuta a mantenere la ghiera in in ottime condizioni questo quando l'ho preso scartava di 10 secondi in in positivo dopo una regolazione adesso mi fa più 3 al giorno poi vediamo quanto dura però già è sì saranno 8 mesi che ce l'ho e mantiene quei 3 secondi quindi ce lo teniamo così poi questo è un marathon orologio senza grosse pretese di plastica con un con un nh35 al suo interno che ho preso perché volevo un orologio con luminescenza altrizio e questo per circa 300 euro me la offre poi mi piaceva anche comunque come è fatto di ripeto di plastica niente niente di eccessivamente eclatante 36 mm al polso sta sta bene anche per tutti i giorni mi piace mi piace anche anch'esso non regolata adesso mi fa più sei secondi al giorno e va bene non lo indosso spesso devo dire la verità l'ho preso più come sfizio per avere un un orologio con la luminescenza altrizio senza spendere troppi soldi bravo poi continuiamo con questo oris big crown point of date con edizione cervo volante questo un gran bell'orologio è visto e rivisto ma con un quadrante eccelso dei colori molto particolari regolato anche questo mi fa circa più due secondi al giorno quindi buono col suo sellita sv 200 al suo interno e poi per ultimo questo che che venderò l'ho preso per avere un orologio di forma perché ultimamente mi sta prendendo da scimmia per gli orologi di forma ma è grande è caruccio è un quarzù però però è pronto nella sua scatola per essere venduto e speriamo che qualcuno se lo compri quindi davide spero di non essere stato eccessivamente prolisso un abbraccio a te e a tutti i seguaci della community i seguaci bene no questa volta non sei stato prolisso sei stato nei tempi anche abbastanza sciolto e ascoltabile belli belli orologi e soprattutto big crown sei un po fissato con questa cosa di aprire tutti gli orologi e regolarli cioè veramente quasi rasenta la patologia la malattia cioè ci vuole anche un po di di sciallo cioè easy easy life cioè ragazzi io ho il diver 65 della oris mi fa più 12 13 secondi al giorno ma cosa me ne frega lo vedo quello lì quando lo metto nella scatola del tempo che gira magari ci sta due tre quattro giorni ecco che in quattro giorni comincia a prendere quasi il minutino quindi lo vedi che si discostano e loro in regolo certo quando ci mettono dentro la scatola del tempo un orologio certificato cosco meta su un omega e lo vedo che rimane preciso nel tempo lì che non scarta quasi ce lo puoi togliere mettertelo però da lì ad aprirli per farli regolare proprio no casomai il giorno che dovrà fare una revisione lo faccio presente dico fate qualcosa anche se me lo migliorano di due secondi al giorno tutto di guadagnato ma metteci le mani no io direi che la tua collezione si merita un 6 e mezzo gli abbiamo ben 6 e mezzo no magari non sono nemmeno tutti gli orologi che hai perché un aggiornamento a questa a questa carrellata gli diamo 6 e mezzo non ho capito il discorso della regolazione a collo di cignoli del del siga al 1963 vabbè alzo le mani e niente però qualcuno ha detto che i voti non sono dati a membro di segugio perché ci sono dei discostamenti non c'è una è logico che non c'è proporzionalità ragazzi come si fa a dare a collezioni completamente diverse no e prendetelo come un gioco è un gioco a seconda di come mi sveglio posso dare 8 a 1 come o come no hai capito quindi prendetelo come un gioco logico che se c'è qualcuno che c'è delle ciofecchissime dei falsi gli ho 4 no ragioniamo così comunque ho cambiato idea andiamo avanti volevo fare il video di un solo di un solo video per vedere come veniva ma almeno due lo facciamo dai andiamo a vedere il secondo davide buongiorno buongiorno sono gerlando l'amico del canale di agrigento che come ben sai lavoro qui a massa questo è il terzo video che ti mando e ti voglio far vedere la mia collezione di orologi che tengo qui a massa ora iniziamo con il long in skin bello questo eccolo qua penso sia un orologio bellissimo mi piace particolarmente la forma della cassa con il vetro e la ghiera certo così particolare l'unica cosa che che mi hai fatto notare tu nella recensione che effettivamente c'è la lancetta dei secondi piccola e secondo me effettivamente potevano fargliela migliore come quella degli sì vabbè ma però non dovete stare la terretta a tutto quello che dico io è nelle recensioni cioè non mi ricordavo nemmeno che avevo detto sta fesseria qua no sì è un po più corta nel senso che se fosse arrivata a fine del rio sarebbe stato un pochino più elegante diciamo ma c'è una cosa che noti lì per lì quando fai la recensione che devi essere preciso devi dire tutte le cose com'è ma poi nel mio utilizzo quotidiano io me l'ho anche dimenticato che cioè ma che mi frega funziona benissimo si vede benissimo si legge benissimo ma spirito perlomeno niente penso di avere fatto un affare con questo orologio perché l'ho preso dal giappone nuovo 960 euro con un 200 euro di dazi doganali e mi è arrivato con la sua bellissima scatola in legno e la lingua che chiude con la linguetta in pelle e la garanzia timbrata il giorno prima che me lo spedissero ma non lo so se hai fatto passiamo al secondo orologio è sempre uno jean ed è il mio spirit quando ho ricercato lo spirit ho trovato questo mi sono innamorato del quadrante grigio ardesia è un po diverso rispetto a quelli che si vedono e anche del fatto che è in titanio questo è quello da 42 mm in titanio senza data pesa veramente poco pesa 60 grammi con il suo cinturino nato single pass long jean con tutte con tutte le scritte incise un gran bell'orologio un paio di dimensioni passiamo al terzo long jean ho trovato questa occasione ossia lo spirit crono spesso però che me lo sono accaparrato bello è un orologio abbastanza grande comunque pesante però ha un gran colpo d'occhio è veramente di una qualità altissima mi piace particolarmente il pulsante per il rimessaggio veloce della data rimessaggio bellissimo la barca andiamo avanti con la raccolta rimessaggio rimessa rolex o precisio un orologio del 71 comprato in da un rivenditore autorizzato rolex un secondo polso che mi ha fornito anche una garanzia ufficiale rolex di due anni l'orologio perfetto l'orologio revisionato lucidato in pratica appare al nuovo mi piace il fatto che sia comunque un orologio molto semplice non abbia la data di dimensioni contenute e lo volevo col bracciale oyster forse un po la leggibilità del quadrante visto che un quadrante argente ma mi ha colpito i riflessi che che dà il quadrante in condizioni di sole da dei riflessi azzurrini si ragazzi io quando mi lamento spesso nei quadranti bianchi lo sapete c'ho le fisse dei quadranti bianchi della leggibilità del quadrante bianco però c'è anche da tenere di conto che l'eleganza la formalità prevede prevede questa questa questo abbinamento cioè indici magari d'oro oppure rodiati insomma color metallo e quadrante sole il chiaro proprio che si veda poco che sia poco a contrasto capito quando vuoi avere anche un dress watch un orologio anche sportivo ma elegante è questo è così che deve essere cioè a questo in queste situazioni qua siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo in più nella lettura ma tenere l'orologio così avere un orologio così non è che è sempre perché bianco e sfere indici chiari non è leggibile è da scartare è più elegante se fosse stato in questo orologio qua con gli indici a contrasto e le sfere a contrasto avrebbe perso molto di eleganza quindi ci vuole anche il giusto peso la giusta misura e il contesto nel quale è inserito l'orologio su che secondo me sono molto belli alla vista molto belli alla vista proseguiamo con con gli altri orologi questo so che ti darà un colpo al cuore cos'è perché è il mio omega si master acquaterra la versione al quarzo no si può non si può ritiro il top lo ritiro tutto c'è come si fa a comprare un omega acquaterra al quarzo ecco io non è che odio i quarti come avete visto in determinate situazioni compro l'orologio al quarzo no quando si tratta di un orologio magari vintage nel contesto della collezione della storia del marchio oppure se è un orologio dal costo di 100 200 300 euro un bell'eco drive un diver citizen eco drive un cronografo della 6 con lo speed timer ci stanno agli orologi al quarzo ma non quando si va sui 5 6 mila euro non so quanto costa questo esiste la controparte meccanica con un bel calibro equassiale e te ti vai a perdere il calibro al quarzo ecco questo io abborro poi sentiamo le ragioni di trovarlo come un'occasione e non me lo sono lasciato come un'occasione certo andava preso con con il movimento equassiale però diciamo posso dire che che non me ne son pentito dell'acquisto anche perché ho una collezione vasta di orologi e lui è quello che comunque all'occorrenza è sempre pronto non ha bisogno di settaggi è un pochino quando si dice che pestare la merda porta fortuna no è una certa una sorta di consolazione testi la merda e ti porta fortuna non lo dicono consolazione quella consolazione è così quando ho bisogno è sempre pronto però non sei convinto nemmeno te l'hai preso perché era un'occasione l'hai detto era un'occasione che lo mettevano poco e l'hai preso ma non sei convinto nemmeno te te lo dico io che fra un pochino quello lì volerà fuori dalla finestra e niente e poi è sempre un'acquaterra eh sì sempre un'acquaterra ce lo sapremo ridire ad un vintage un rado parpolors parpolors questo questo di qui l'ho acquistato l'ho acquistato da un collezionista e niente è in perfetto stile anni 70 con il braciare e il lamierino forse probabilmente non ha la corona originale però l'orologio e dovrebbe essere originale in tutte le sue parti lo saprei io e questo c'è il datario in inglese e spagnolo passiamo poi sto cane qua il mio lago bello mi piacciono i pilot e mi piacciono i pilot con con quadrante di tipo a questo è una versione economica dell'aco però è portabilissimo e l'ho preso di calibro piccolo diciamo di calibro 39 è in attesa di comprare un ivc mark uno spitfire me lo godo diciamo ora ti faccio vedere qualcosa che sicuramente avrà la tua approvazione l'oncino vintage apriamo la scatolina e prendiamo il nostro silver arrove con bracciale filoflex origine mamma mia che bello purtroppo questo orologio originale in tutte le sue parti però non al quadrante risalato cosa che effettivamente non puoi vedere dal fatto che manca la scritta silvere anche sfere non mi sembra il resto è un orologio meraviglioso c'è il suo bracciale dell'epoca tutto marchiato lo jean mamma mia sotto e la cosa che mi fa impazzire è la cassa e soprattutto come si integrano i finali con la cassa l'orologio ho comprato da un collezionista a un prezzo penso vantaggioso l'ho pagato sui 465 euro e penso sia veramente bellissimo per oggi è tutto ti lascio quindi con l'ultima con l'inquadratura dell'oncino silver arrove e ci aggiorniamo per altri video per il resto della mia collezione che tengo in sicilia un abbraccio a tutti gli amici del canale e sempre tanti complimenti per il contenuto grazie grazie mille ecco io quello il silver arrow lì non l'avrei comprato perché proprio il bello di una delle caratteristiche di quel modello lì è che ha sul quadrante la scritta silver arrow in corsivo guarda l'ho ristampato tutto tutto bello bianco tra l'altro le sfere secondo me non sono nemmeno nemmeno le sue poi mi viene anche il dubbio un altro dubbio mi viene adesso così il silver arrow c'ha gli indici le sfere colore argento cioè silver arrow questo qua ce l'aveva dorate mi sembra che esiste anche la versione golden arrow o mi sbaglio sicuramente esiste la versione silver jean c'è una versione stranissima che si chiama silver jean è un incrocio tra silver e long jean pare perché in certi in certe nazioni il nome non poteva silver arrow in germania non poteva essere usato una roba del genere non ho visto uno online che mi è però aveva la scritta longine e la clessidra che erano leggermente una storta rispetto all'altra e quando vedo queste piccole cose qua mi fermo perché potrebbe non essere solamente quella piccola cosa lì che gli potresti anche passare sopra ma se c'è già questo chissà cosa c'è poi anche mi faccio sempre questa parola qua quindi siccome nessuno ha fretta io faccio un passo indietro e sto alla finestra a guardare io non avrei preso questo qua quadrante stampato non avrei preso comunque è un bell'orologio cioè per l'amore del cielo bel bracciale tutto è una bella collezione di un bel sette e mezzo tutta la collezione fammi un po vedere un secondino perché c'era tre long jean tre long jean contemporanea e tanta roba bravo tre long jean contemporanea mi viene quasi voglia di fare la collezione del long jean la sto facendo perché io c'ho lo skin diver il legend diver e lo spirit quindi sto facendo anche quella dei contemporanei mi rimangio tutto però il tuo cronografo spirit è un po spesso un po grosso non lo so se io ci sono altri cronografi long jean che preferisco a quello la maga acqua terra al quarzo che sicuramente non terrà in collezione se ne andrà il golden ore se l'aco pilot mi piace tanto e alla fine il long jean silver harrow che però per me è un po dubbioso è comunque va bene anzi sapete cosa faccio state al secondo qua vado a prendere un libro un librone e ve lo faccio vedere long jean through time eccolo qua guardiamo un pochino se c'è silver harrow ai ragazzi eccolo qua subito trovato il long jean silver harrow eccolo qua 1956 riuscite a vedere che ha gli indici e le sfere che sono in colore argento e le sfere che sono a punta molto più a punta rispetto quelle su una sfere alfa va bene secondo me c'è qualcosa che non va sia nelle sfere che negli indici in quell'orologio lì va bene comunque io lo sponsor della trasmissione è questo ragazzi volevo anche andare veloce ma mi sa che mi sono anche dilungato va beh facciamo questa prova con due video vedere che è veloce se vi piace se vi se vi intrippano perché poi più veloci faccio i video e prima vado a vedere gattini su instagram capito quindi posso rilassarmi maggiormente io ragazzi spero vi siano piaciuti i video spero vi sia piaciuto il video in generale il mio bellissimo librone e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube e non mi resta